Se volete aggiunti di denaro, aggiunti dell'app, se molto altro ancora è tutto su vostro account oppure account modati su tutte le piattaforme di GTA Online a prezzo più basso d'Italia, potete contattare GTA Topati su Instagram oppure su Telegram, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, sono ZWix e a quanto pare qualche giorno fa è stata riccata una parte del codice sorgente di GTA V, che sia il famoso codice sorgente di cui si parlava nel mese di ottobre quando ci fu quel casino di GTA VI e che potrebbe averci dato qualche indizio su cosa potrebbe essere il prossimo aggiornamento natalizio e al tempo stesso cose interessanti come la famosa modalità tagliata dei poliziotti contro ladri, il DLC della polizia di cui abbiamo parlato tutti nella comunità tanti anni fa. Innanzitutto sono stati rivelati i nomi delle icone del radar tra cui Acido, laboratorio di acidi, DAX overlay, punto di scambio del pacco, cabina o tassista tipo taxi in centro, arma del furgone, scorta della casa, trattore, magazzino dei Giaggalo e magazzino dei Giaggalo DAX, come anche richiesta di un veicolo del boss dei Giaggalo. Come vedete sembrano dei termini generici per indicare un nuovo business di guadagno su droghe o materiali. Ce ne sono due in particolare che devo spiegarvi per farvi capire meglio a che cosa il gioco si riferisce. Che cos'è DAX? La domanda giusta sarebbe invece chi è DAX? DAX è Daniel Nuosu Jr., rapper e cantautore canadese nigeriano. E a quanto pare dovrebbe essere un altro artista che farà parte del prossimo DLC. E che cos'è invece un Giaggalo? Un Giaggalo è un termine generico per descrivere un fan del gruppo rap di Detroit, ovvero gli Insane Clown Posse, aka ICP. Il modo più facile per descrivervi meglio chi potrebbe essere effettivamente un Giaggalo è ad esempio Wade, personaggio della storia di GTA V. Infatti un modder di GTA Forums ci ricorda di come Wade aveva parlato di una festa a tema Giaggalos nella storia, dove mentre andava in questo festival chiamato The Gathering, lui, Daisy Bell, Cash Chronic e altre persone si erano fermati a Sandy Shores per comprare alcune droghe. Per chi non lo sapesse il The Gathering nella vita reale o The Gathering sarebbe un festival annuale dove tipicamente ci vanno i Giaggalos e gli artisti che supportano, tra cui Ice Cube, Basta Rhymes o ancora MC Hammer. Potrebbe esserci quindi il ritorno di Wade assieme ad un gruppo Giaggalo con Dax come capo principale di questa gang, se così possiamo chiamarla, o magari Wade come capo di questa gang e Dax il cantante che questa gang idolatra. Purtroppo non sappiamo nient'altro a riguardo, sono solamente le primissime info scovate su quello che potrebbe essere i prossimi delle C, ma per il resto, a parte speculare, non possiamo fare nient'altro. Ovviamente sono spuntati fuori pure i codici che si riferiscono. Ad uno studio musicale ovviamente la possibilità di fare musica e beats come un producer. Ovviamente alla A Records, suppongo, essendo l'unico studio musicale del gioco. Riguardo invece questi codici che si riferiscono ad armi e granate, non sappiamo se saranno armi per i prossimi delle C oppure se erano delle cose progettate per il DLC della polizia. Fatto sta che Rockstar ha, tra i codici del gioco, inserito la flashbang, la granata stordente, se qualcosa riguardo la MK2 è una sorta di arma cinetica, magari in stile Halo. Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo sul probabile prossimo DLC, però sfortunatamente non abbiamo notizie su Michael De Santa. Riguardo altre curiosità su cosa i modders hanno trovato in questa sorgente di codici, è un possibile DLC della polizia con tanti contenuti logicamente mai rilasciati. Ci sono ben più di 10.000 linee di codici riguardo questo DLC della polizia e ladri tagliato tantissimo tempo fa. E si possono intravedere dei codici riguardo alcuni veicoli che sarebbero dovuti uscire con questo aggiornamento. Ad esempio è stata anche scovata la possibilità di settare quanto devono durare le stelle della polizia in questa modalità. O ancora una serie di codici che appunto si riferiscono ai veicoli della polizia come alcuni che sono già presenti in gioco, mentre altri ci sono ma non con lo stile della polizia, tipo il Karakara o la Panto. O ancora auto mai viste prima d'ora come lo Zoku. Qua invece abbiamo una serie di vestiti e completi di questo DLC tagliato, o meglio, se così possiamo dire, i loro codici. Qua invece c'è una clip di Wild Brick 142 sul suo Twitter, dove ci mostra di come funzionerebbe effettivamente la cattura dei territori dei poliziotti e dei criminali, con ben 41 territori sulla mappa in stile GTA San Andreas, tipo delle gang. Non so se vi ricordate che dobbiamo conquistare il territorio per la famiglia Grove, magari tipo un territorio dei ballas che era contrassegnato in viola e non dobbiamo andare lì e cercare di farlo diventare verde, ecco. Avevo già parlato tantissimi anni fa di questo DLC e se siete interessati al riguardo vi lascerò il video nella descrizione. Quindi niente ragazzi, fatemi sapere la vostra tra i commenti, peccato che non ci sia alcuna traccia riguardo Michael De Santa, speriamo in bene. Da ZWX è tutto, noi ci sentiamo al prossimo video!